Che cosa intendiamo per poesia comico-realistica alle origini della letteratura italiana? È una definizione tecnica specifica che fa riferimento a una distinzione tutta medievale di stili, tra stile alto e stile basso, tra stile tragico e stile comico. Questa distinzione rigorosa in stili dipende da che cosa? Dalla scelta degli argomenti e anche dal linguaggio, dal tono impiegato, perché distinguevano all'epoca tra lo stile alto, sublime o tragico che era riservato alla trattazione di argomenti seri, elevati, per esempio il tema d'amore, i temi dell'eroismo oppure della morale, e invece lo stile comico basso si riferiva ad argomenti che avevano a che fare con la realtà quotidiana e materiale, e quindi con un linguaggio che non era selezionato ma che era anche più vicino al parlato che ammetteva anche l'utilizzo di termini che potevano essere modi di dire popolari, parole ordinarie, visto che i riferimenti erano a situazioni concrete. Quindi alto, basso, argomenti seri, comici, linguaggio solenne, linguaggio comune. E la poesia comico-realistica fiorisce in Toscana nella seconda metà del XIII secolo e nella prima metà del XIV ed è caratterizzata dalla trattazione di argomenti che sono concreti e realistici, appunto in uno stile basso, all'insegna del plurilinguismo. Possiamo parlare tranquillamente di parodia o di toni parodici, in cui la parodia è un altro termine tecnico che sta a indicare un percorso parallelo, vale a dire un modello viene assunto come riferimento ma viene rovesciato di segno. Situazioni letterarie alte vengono prese in considerazione per essere rovesciate o presentate secondo un'altra prospettiva. Così agisce la parodia. E in questo caso parlare di parodia è opportuno anche per sottolineare come i poeti comico-realistici dell'epoca, Rustico, Filippi, Cecco, Angioglieri, fossero tutt'altro che poeti privi di cultura. Per fare la parodia è fondamentale conoscere l'argomento per poterlo rovesciare di segno, per metterlo appunto in veste ridicola. I contenuti della poesia comico-realistica si riferiscono al mondo quotidiano e sono il contraltare rispetto al mondo degli stilnovisti. Lì c'era una concezione dell'amore spirituale, si parlava della gentilezza d'animo, qui invece si insista all'opposto su altri temi. Non è l'amore spirituale ma l'amore carnale a tenere banco. Il motivo del contrasto tra gli amanti, il richiamo alla ricchezza e ai piaceri, oppure la deplorazione per la mancanza di denaro, magari perché il padre è avaro. Il richiamo, oltre che all'amore sensuale, al vino e al gioco d'azzardo. L'invettiva contro la povertà, contro la sfortuna, contro i padri avari e persino gli attacchi personali. E da ultimo dobbiamo riconoscere, se non la paternità, un collegamento almeno tra i poeti comico-realistici e la cosiddetta poesia gogliardica che si è affermata nei secoli precedenti. I clerici vagantes, i gogliardi, erano coloro, erano gli studenti che frequentavano l'università e che si spostavano portando in giro i propri cantini. Nei loro canti risuonano i riferimenti al vino, alla donna, al gioco. Operavano dunque un vero e proprio rovesciamento rispetto a quelli che potevano essere gli ideali di una vita austera. Grazie a tutti.